Eccola qua, ci siamo con la sposa, sei la sposa autonoma a te! Che autonoma? Sei quella che ha fatto tutto da sola stasera Io? Non ha fatto tutto da sola questa sposa? Ah, si ha portato il microfono da casa Ti senti legata? Sono incastrata Chi ti ha incastrato in realtà? Ah, è un'intervista Devi guardare là Chi ti ha incastrato? No, mi sono incastrata io Ma nella vita chi ti ha incastrato? Andrea Presentissima, presentissima, come ti chiami? Linda No, te no, questa, non so, tu come ti chiami? Linda Linda, oh, Linda da dove? Da Verona Sono domande difficilissime già, ecco, perché lo fai? Perché me l'ha chiesto Ah, basta chiedere allora? Quindi con Linda basta chiedere praticamente Non ha neanche dovuto sudarsi un attimino niente? No, siamo insieme da tanti anni Disperata proprio Quanti anni? Dodici Dodici, dodici Quindi, quindi l'hai detto a un certo punto Intimavi, non intimavi? No Ah, proprio Non te ne frega niente Non gliela frega niente Fantastica Ok, solo per il viaggio di nostra allora? No, non dobbiamo ancora prenotarla Ah, dobbiamo anche prenotarla Almeno il ristorante l'hai prenotato? Sì Ah, ok, ok Loro vengono tutte? Sì La testimone qual è? Eh, non c'è Ah, non c'è Non lo sapeva Vita Barcellona Ah, vita Barcellona Comoda, l'hai presa comoda Ok, bellissimo È mia sorella È tua sorella? Sì Ah, comunque è Linda Gli facciamo un applauso che è veramente carichissima per questo Non vedeva l'ora Che cosa? Sapevo Che cosa? Ah, non lo sapevi questa cosa Eh, c'è un ricordino anche qua Però un bel ricordo, eh Si vede proprio l'immagine dell'amore Fammi a meno la faccia innamorata là Che a meno Ma prendi anche Sky con questo Va bene Ok, ciao ragazzi Ciao Molto Ah, non lo sapevi